Cicaloni che è il suddetto youtuber che è il canale youtube ci conosciamo da dieci anni facciamo prima video collaborazioni inerenti alla dimensione del fighting quindi backstage dei match video tutorial fatti proprio qui in cui spiegavo magari il calcio girato calcio a martello poi l'ho iniziato a estendere il suo canale youtube anche sul descrizioni di personaggi della mala quindi totorina banda della magliana e quindi magari spesso le domande degli utenti oma come sta banda della magliana poi noi visto che bene o male anche grazie allo sport conosce a 360 gradi roma conosce dalle borgate dove spesso magari si trovano le palestre ha il professore universitario a 360 gradi poi il fighter crea fascino fascinazione nell'interlocutore quindi c'è il rispetto sia del appunto del pregiudicato di quello che viene nella borgata fino al massimo al politico e quindi ha detto oh senti vogliamo andare conosciamo tutti andiamo abbiamo iniziato così quasi per piacere ma per caso dar voce a persone che non ce l'hanno perché per esempio scenari che sono collegati soltanto alla mala vita a situazioni negative e non hanno mai la possibilità di parlare raccontando dell'altro c'è del buono ovunque il cattivo e il buono c'è ovunque e l'altro è sai spesso se tuo padre ti fa la ramanzea ti dice no non devi drogarti non devi bere non devi far questo sembra no una frase effetto dicono tutti non arriva quando una persona che è stato 15 anni di galera no e lui deve scrivere il fatto che lui ha perso la sua libertà ha perso la famiglia ha perso gli amici ha perso il lavoro ha perso l'identità ha perso tutto è diverso non è più la morale fino a se stessa lui sta da un messaggio e si sente perché già la sua fisonomia del viso è cambiata perché siete una persona quando ha sofferto e quando quello te lo dice è diverso il messaggio arriva a un altro effetto e quindi noi siamo in serie in giro facendoci raccontare uno le storie dei protagonisti dei video del quartiere due le storie del quartiere e tre davamo ecco come ho già detto davamo voce altre anche altre situazioni cioè ne so scampia serie tv giornalisti cose soltanto se parlate della piazza del spaccio in modo l'alto manco penso sia più attiva però situazioni per cui gente viviamo in europa come ho detto prima siamo tra i capitali dell'occidente situazioni magari di famiglie covottano i figli che non c'hanno manco i vetri rotti i soldi per i vetri non ce l'hanno cioè loro vivono dentro una casa con i vetri rotti non è normale dai non è possibile quindi perché se ne parla solo dello spaccio e non di quest'altra realtà altro esempio piazza gaspari se non va là e non parli del clan di qua pare che non c'è niente di cui parlare invece noi siamo andati là tra l'altro tutti i carini tutti che ci accoglievano e siamo entrati nelle case popolari c'era una signora con ci siamo formati con l'ossigeno con casa fracica pieno di misura porace la nessuno sa la fila perché ripeto se bella già sai di quello di parlare dei clan dei zingri invece noi ecco abbiamo dato modo a parlare anche a queste altre persone il bello del nostro format è che che crudo è vero e reale non c'è un copione non so attori cioè noi andiamo lì accendiamo la camera e diamo modo ai protagonisti di parlare ovviamente li indirizziamo nel senso no cose politiche però se lui sta raccontando la sua vita se lui ha un suo modo di porsi è quello c'è quello che rimane quindi spesso abbiamo anche trovato alcune persone che ancora stavano vivendo il momento di esaltazione no e quindi l'effetto collaterale potrebbe essere quello che l'utente no gli arriva il messaggio sbagliato il massaggio di fascinazione del dello scenario criminale quello c'è sempre c'è no c'è sempre ci può essere anche questo perché ricordati che poi qualsiasi informazione può essere ricolata cioè c'è sempre un soggetto che interpreta che filtra i messaggi che arrivano dal mondo esterno quindi poi se quel filtro è sporco è un problema del filtro stesso in un periodo in cui viviamo che è dell'ostentazione di ricchezza verbale noi ci poniamo sempre in maniera educata e rispettosa siamo grandi e grossi sempre educati sempre permesso ovunque sempre in tuta non che ci sia niente di male io quando poi scorsa il brasilio mi metto pure vestito bene però non ci abbiamo quella quella necessità di far vedere oddio guarda che orologio guarda no e questa è un'altra cosa positiva del nostro format e oltre che in un periodo di ostentazione come ti ho appena descritto si vede no che nei nostri vidi che noi ci portano rispetti sia il professore universitario che ci portiamo sia il pregiudicato sia ma l'hai pregiudicato è vero non quello finto che fa su tiktok e le cose che fasse e vedono come ci rispettano soltanto per noi essere per il nostro essere educati sportivi umili e questo è un altro messaggio che arriva consciamente o anche inconsapevolmente quindi ripeto in linea di massima noi tutti tutti i video che facciamo sono sempre per scongiurare il reato la droga perché ripeto se uno sta senza denti dopo 30 anni che si è drogato ha perso figlia tutti gli amici di comitata sono morti il messaggio più significativo per non fare quello piuttosto che ditte ragazzi non vi dovete drogare ragazzi per me il messaggio poi ripeto come ogni cosa fatta cruda ci stanno gli effetti collaterali anche il pugilato ci sono degli effetti collaterali non sportare il contatto per ricevere il colpo che ti fa male alla testa però c'è stato tanto repositivo che io consiglierei al mio fratello il mio sangue al mio figlio a me stesso no stessa cosa i nostri video sono secondo me di una costruttività incredibile grazie